risotto italiano se ne parlerà ma soprattutto si potrà gustarlo nell'ambito di una iniziativa che torna per la seconda volta quest'anno in questa progiunce stiamo parlando del festival nazionale del risotto italiano che avrà luogo dal prossimo 27 di ottobre ne parliamo proprio con l'organizzatore di questa manifestazione che già nella prima edizione fece veramente il boom questa edizione qua come si presenterà edgaro canuto speriamo si presenti ancora meglio noi questa primavera abbiamo organizzato l'edizione numero zero che era una prova per saggiare quello che poteva essere la rispondenza rispetto al pubblico di questa manifestazione l'esito lo conoscete è stato ottimo abbiamo avuto almeno 50.000 presenze in quattro giorni e quindi abbiamo deciso di replicare immediatamente anche in accordo con Edoardo Arraspelli che è il nostro testimonial d'eccezione e quindi dal 27 di ottobre al 4 di novembre per nove giorni noi riproporremo il festival del risotto italiano a Bielafiere. Allora sappiamo che recentemente sono stati due appuntamenti che ha unito proprio la vostra organizzazione con altre realtà importanti la prima a Verona mi sembra e la seconda proprio qualche giorno fa ad Alba. Sulla scorta del successo di Biella abbiamo attivato delle sinergie dei gemellaggi con altre importanti manifestazioni e no gastronomiche la prima a isola della scala vicino a Verona e Mantova abbiamo partecipato alla fiera del riso che è una manifestazione che ha un pubblico incredibile in tre settimane arrivano a distribuire 500.000 razioni di riso ed è la seconda manifestazione enogastronomica più visitata dopo l'Octoberfest in Europa e in più abbiamo definito un gemellaggio con la fiera del tartufo di Alba siamo stati loro ospiti questo fine settimana abbiamo cucinato il riso e proposto i prodotti biellesi in abbinamento col tartufo e saremo di nuovo loro ospiti a chiudere la manifestazione della fiera del tartufo il 17 e 18 novembre. Allora io ho messo gli occhiali proprio perché è il caso di leggere dall'appenista vercellese al risotto sfumato l'arbaluce al risotto sfumato con birra menabre insomma una varietà incredibile di risotti quanto ce ne saranno? È almeno un'ottantina e quindi i nostri ospiti avranno giorno dopo giorno la possibilità di scegliere veramente una gamma incredibile di risotti di ingredienti tipici dei nostri territori perché abbiamo detto il riso serve per declinare e valorizzare quelli che sono gli altri prodotti dal vino alla birra ai formaggi ai salumi tutto questo in una sinergia in uno sposalizio virtuoso che ci consente di valorizzare queste tipicità. Oltretutto noi parliamo del riso migliore del mondo noi possiamo valorizzare questo prodotto che è un prodotto DOP che è il riso della baraggia biellese e vercellese che è stato giudicato ed è giudicato il miglior riso del mondo. Ecco proprio vero veramente quello che hai detto cioè l'importante a volte è credere nelle cose che si hanno. Il biellese ha delle cose importanti e questo riso veramente è un'eccellenza. Attraverso proprio queste iniziative avranno sicuramente la grande opportunità proprio di aprire i confini e di allargare quello che sono le vedute anche turistiche culturali e no gastronomiche. Senz'altro io ero questo fine settimana ad Alba per esempio e abbiamo visto anche a Verona cosa è questa fiera. È vero che loro sono alla 46esima edizione a Verona e all'ottantesima ad Alba ma noi da queste sinergie, da questo lavoro comune, da questa amicizia che abbiamo stretto con queste altre realtà che del turismo, della valorizzazione dei prodotti hanno fatto una grande ricchezza per il territorio possiamo solo imparare e se loro ci aiutano e noi vicendevolmente abbiamo questo rapporto di collaborazione possiamo portare anche a Biella un po' di questa cultura. Una cultura importante perché parla di valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici, delle economie locali, di quello che noi possiamo offrire all'esterno. È vero bisogna aprirsi all'esterno, bisogna sapersi porre all'esterno, bisogna poter anche credere nei propri valori e nelle proprie peculiarità. Noi abbiamo tante cose belle e buone da far conoscere al mondo e dobbiamo tentare di dialogare con questo mondo aprendoci e aprendo Biella a queste grandi prospettive che si possono portare alla nostra attenzione. Anche questa edizione del Festival del Risotto sarà al Biella Fiere, giusto? Siamo a Biella Fiere ma poi, e non voglio svelare nulla che oggi non sia svelabile, contiamo di poter portare anche a Biella, anche nella nostra città, manifestazioni che possano avere, speriamo, lo stesso favore del pubblico, portandoli in un luogo più naturale e quindi portandoli in un ambiente sicuramente più bello, accogliente storicamente ed ambientalmente, che sia il centro di una città, così come fa Alba, così come fa Verona, così come fanno tante altre manifestazioni che hanno in dubbio successo e devono essere per noi un motivo di rilancio anche delle nostre particolarità storiche e culturali delle nostre città, dei nostri borghi. Ecco, a chi organizza eventi come questo? In genere l'importante è proprio chiedere a un intero territorio la collaborazione, proprio quando si apre a manifestazioni di portato così forte. Ma noi dobbiamo dire che sia dalle aziende locali, noi abbiamo tentato e stiamo riuscendo di valorizzare le aziende d'eccellenza locali, noi possiamo contare, non voglio fare pubblicità naturalmente però, sulla birra che ha vinto varie volte dei titoli mondiali, sull'acqua più leggera d'Europa, su formaggi e salumi d'eccellenza, su vini eccezionali, sul riso, dicevo, migliore del mondo, abbinando tutti questi ingredienti e lavorando con le istituzioni, noi stiamo lavorando molto bene con la TL per esempio, il sindaco di Biella, il comune di Biella ha dato molta attenzione a noi e quindi lavorando territorio, terra e tradizione, quindi le associazioni di categoria, i produttori e le istituzioni e anche la parte privata che deve mettere l'investimento e deve mettere il rischio di impresa, è quello che stiamo tentando di fare noi, si può davvero portare del valore aggiunto, delle nuove prospettive, come dicevo, si possono vincere delle scommesse. Questo è un periodo dove occorre porre delle scommesse davanti a sé e tentare di vincerle. Grazie a tutti, grazie a tutti.